Questa donazione è di estrema importanza perché rappresenta una modalità terapeutica che si aggiunge alle trattamenti dei pazienti con scelosi multipla, in particolare per trattare uno dei sintomi che è la spasticità e che è un sintomo molto disturbante e purtroppo non sempre ben trattato con le terapie attualmente disponibili. Fa parte di un progetto più generale che è quello della presa in carico globale dei nostri pazienti ai fini di dare un servizio che non è solo quello delle terapie modificatori della malattia, che sicuramente si fa, ma anche un intervento su tutti i bisogni della popolazione di pazienti che si affidano al nostro centro.